Ragazzuoli benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Io ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite è possibile farlo e basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sull'etangorina in base a testa supporto un creatore ed inserire il mio creator code ovvero Croatomist. Accettare e il gioco ragazzi sarà fatto. Inoltre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se ovviamente il video vi è piaciuto e per supportarmi. Detto questo ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo fantastico video. Grazie. Grazie. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è? Allora, andiamo di qua. Do you know? Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno al latte. 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 Allora ragazzi buttiamo il combat Che dobbiamo giocare di pump Forza ragazzi Buongiorno al latte Al caffè Buongiorno a chi non c'è Dove vai? Non ho ben capito dove vai caso Buongiorno Buongiorno a te Che ora ti clappo Buongiorno a chi non c'è Buone le spruzzate Ah non è mio? Ah è mio che è mio Guarda la faccia ma due Cari signorina Vuole fare sesso? 55 centesimi Grazie Pirogas Gonzalo Ragazzi ho massato un mafioso Latinoamericano Sono nella merda Che cazzo è scusa? Sì vabbè Ma che cazzo è? Ma ti droghi? No ragazzi Chi cazzo è questo? No, no, no Fermi un secondo Salve No, no, è un hacker Ragazzi, staccando Ragazzi, ve lo giuro Ragazzi, hit a tutto Hit a tutti i colpi con le burst No, ragazzi, è impossibile Wait Non è possibile questa cosa What the fuck Ma che cazzo è questo Quello anonimo Ragazzi Tfew ama quell'arma E nemmeno lui riesce ad usarla in quel modo No ragazzi nemmeno lui riesce ad usarla in quel modo Era grigia Affanculo Perso pure le cuffie Va Va Ma por Glugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug mio non lo fare buongiorno buongiorno questa va a due barret are you stupid my friend? Ma che stava guardando Un ha riftato E' un bug o un ha riftato veramente No è un bug per forza Uno che è riftato da lì entra morto Non può entrare vivo E' impossibile questa cosa Vero? What? Come ha fatto a non morire? Buongiorno Chi non c'è? 17 bombe ragazzi Come i centimetri Eh non si vuole dire Della mia schivania Del mio mousepot Scusatemi Fammi un attimo ricaricare Per favore fratello Grazie Oh my Ti sembra Corretta questa azione Che hai appena Fatto? Oh my god Ragazzi Dunque raga Quello là Era per forza un hacker Ora andiamo a vedere i replay Perché non è possibile C'è Un hacker Nel senso Non è che ovviamente Stava uscitando tantissimo Però aveva Aveva l'ame block Per fo Per forza O era Dio Ma non ha quella mira Neanche T-Few Che ama Quell'arma Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Lui Proprio lui E' proprio lui questo Cosa sono queste kill Aveva sette kill Ragazzi Ha fatto tre HS Ha fatto tre HS In volo Quattro Ne ha fatti quattro Quattro Guardate 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 Pronti Pronti Mo' fa l'HS Siete pronti Uno Due Bob No vabbè raga Che testa di Non ci credo No fermi Ora andiamo a vedere ragazzi Quando ci ho fatto io l'1v1 Fermi Fermi Allora vediamo quanto è HS Ok mi sto del cecchino HS HS Guardate quando piccavo Guardate quando piccavo Guardate 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 come era velocissimo Negli shot HS Body HS Ora mi curo E poi mi ta di deagle Body Raga non sa neanche Build Martino è un bravo player Minchia builda peggio di Porca puttana Non lo so Guardate Avete visto come sa buildare? Visto come sa buildare Che cade comunque Guardate quanto mi ha fatto? Quanto mi ha fatto? Fermi Mi ha fatto HS 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 Body Build a meglio di Tfew Sì assolutamente Ah ragazzi Non sa buildare Cade di fall damage Perché non sa buildare Non sa fare nulla Ha un aim block incredibile Questo tizio Non sa l'abbiamo Non sa l'abbiamo Non sa l'abbiamo Non sa l'abbiamo Non sa l'abbiamo